Questa mattina abbiamo avuto l'occasione di soffermarci sui provvedimenti legislativi che hanno visto la Regione Abruzzo impegnata nei confronti della tutela dei cittadini e nello specifico delle categorie produttive. Dalla rivisitazione generale, io l'avevo fatto già in Consiglio regionale, è venuta fuori una situazione un po' particolare. Innanzitutto per l'applicazione del canone inverso. In ogni procedura legislativa si determinano prima le disponibilità finanziarie e poi si redige una legge e poi gli atti attuativi della stessa, i bandi per poter poi mettere nelle condizioni i soggetti che ne hanno diritto a partecipare. Nel caso specifico invece si è partito da un provvedimento legislativo che ancora oggi sta trovando le coperture finanziarie. Dico questo perché? Perché nel Cura Abruzzo 1, approvato i primi giorni di aprile, si è fatta una promozione di quel provvedimento declamando su tutti i fronti che poteva sviluppare 100 milioni di euro a vantaggio della comunità abruzzese. Ad oggi facendo un calcolo matematico con tanto di prova di resistenza, le uniche disponibilità che ci sono ammontano a 17 milioni di euro. Per quanto riguarda il Cura Abruzzo 2 invece ci sono ulteriori criticità oltre a quelle della carenza delle disponibilità perché ben ricordate che c'è stata un'operazione di attenzione da parte del governo che ha sterilizzato il ricalcolo dei fondi statali, nello specifico gli FSC in base ai quali non c'è stato nessun atto di riprogrammazione se non limitatamente alla parte dei contributi per le borse di studio di circa 3 milioni di euro. Quegli stanziamenti per tutte quante le altre attività montavano a 17 milioni di euro, quindi 14 milioni sono nel nulla. Ma la parte più importante e quella più rilevante perché oggi ha trovato l'aspetto del bando attuativo cui in queste ore, ed io ho chiesto, avevo chiesto e ho ribattito oggi anche alla conferenza dei capigruppo, la necessità di una proroga che poi fortunatamente è arrivata, quindi dicevo c'è un bando approvato che permette di far domande per accedere ai contributi che dovrebbero essere coperti per 19 milioni di euro, a vantaggio chiaramente delle attività produttive. Quelle attività produttive che hanno perso rispetto all'annualità 2019, nello specifico aprile 2019 e aprile 2020, hanno avuto un calo degli incassi, dei ricavi della loro propensione al guadagno. Che cosa è successo? È successo che i 19 milioni di euro, sempre ipotetici, trovano copertura finanziaria e due atti deliberativi che in realtà l'uno riguarda l'altro. In buona sostanza c'è un atto deliberativo che chiede alla struttura regionale di fare la riprogrammazione e l'atto presupposto per il bando poi dice che la copertura finanziaria sta nell'atto che determina la richiesta agli uffici della regione di riprogrammare. Voi ben comprendete che c'è un comitato di sorveglianza, tra l'altro quell'atto è stato antecedente rispetto al via libera del comitato di sorveglianza che è stato fatto ieri sera per aprire la fase di interlocuzione con l'Unione Europea. Tutti quindi possono capire che questi fondi si arriveranno, noi veniamo dall'esperienza del terremoto, arriveranno fra 4-5 mesi quando l'Unione Europea darà il via libera sui 19 milioni di euro. Nel frattempo che cosa facciamo? Approviamo un bando per accelerare i tempi, ma i tempi si accelerano se i contributi si possono dar subito. Non più tardi di ieri sera, udite bene, quel bando ha trovato due facca contrapposte. E riguarda i propri professionisti, i liberi professionisti per i quali in consiglio regionale avevamo fatto una battaglia nel cura Abruzzo 2, erano stati inseriti in automatico con una risposta alle domande più frequenti, è stato detto che erano esclusi. Per poi recuperare a tarda serata, e state attenti che il bando chiudeva i termini nella notte di questa sera, cioè si doveva iniziare a mezzanotte di oggi, e quindi ci si sarebbe trovati veramente una condizione surreale. La sommatoria dei due provvedimenti legislativi si aggira sui 150 milioni di euro, quelli proclamati e declamati. Se andiamo a stringere oggi i provvedimenti che sono realmente fruibili, fermo restando che ci sono altri 20 milioni di euro detti disponibili, ma che in realtà soggiacciono all'approvazione del conto consuntivo e all'approvazione dell'avanzo di amministrazione, in realtà sono pochi milioni di euro. C'è l'esigenza di fare chiarezza, e da questo momento credo si sia sterilizzato il tempo della collaborazione in funzione del rapporto che si ha con questa emergenza generale, questa crisi simmetrica che si è vissuto attraverso il coronavirus. Da domani noi dobbiamo impegnarci un po' di più affinché le cose possano andare meglio.